Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland, io sono Andrea e questa è la rubrica Tessiland News. Ah c'è, oggi parliamo di una cosa che ci avete richiesto davvero davvero in tanti, le mattonelle in ecopelle e andiamo a vedere in quali colori e le loro dimensioni. E vediamo quindi nel dettaglio queste mattonelle di ecopelle. La prima cosa che dobbiamo vedere è la misura e misurano ben 7 cm x 7 cm. Le coloriture oggi disponibili sono il nero, il blu, il cuoio, il rosso, il grigio e il panna. I fori che vedete qui hanno una dimensione di 3 mm circa, quindi utilizzabili sicuramente con tutti i coordinità della Tessiland. Cosa dire di più? È un formato in ecopelle, salpato ed è anche rigido, in modo che quando costruite la vostra borsa, dove all'interno sicuramente ci saranno dei giri di maglia ed uncinetto, rimane comunque una borsa rigida. Per il resto, tutto quello che voi chiedete, Tessiland lo fa. E come bene avete visto, ogni vostra richiesta per Tessiland è possibile. Quindi vi dico che se vi è piaciuto questo video, mettete un bel like, azionate la campanella e poi noi ci vediamo sicuramente al prossimo news. Ciao! Ciao